Il pollice sul cane, signora Landon. Il pollice sul cane. Buenos dias, signores. Io soy escalante. Parli la nostra lingua? Ah, sì. Parlo la vostra lingua molto bene. E allora cerca di dirci che diavolo vuoi e sbrigati. Tutto quello che avete. Noi siamo poveri. Non abbiamo niente, signor. Te lo chiedo per l'ultima volta. Cosa vuoi? I vostri carri, i cavalli, i fucili, i soldi. E so che ci sono anche delle donne con voi. Dice davvero questo idiota? Ci può scommettere il collo. Ma è ridicolo. Eh, sì. Ho più uomini di voi. Se vuoi perderne un po' devi solo farti avanti. Se no, metti la coda tra le gambe e fila. Neanche mille di voi ci farebbero paura. Aspettavo che lo dicesse. Il cinturino della sua fondina è aperto o chiuso, caro collega confederato? Chiuso. Collega, Ienchi. Allora dovrò pensarci io. Aspettare a far fuoco! Aspettare a far fuoco! Colonnello! Voi eravate andati lì per parlare. Perché gli ha sparato? Per ravvivare la conversazione che languiva. Fuoco! Come i vecchi tempi, colonnello. Margaret. Margaret. Non ce lo faccio. Non ce lo faccio. Attento, colonnello! Non mi dica che se ne vanno. No, non se ne vanno. Si raccolgono per caricare ancora. O perlomeno ci riprovano. Non ci riprovano per caricare ancora. Magico 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 Magico